Il cave energia di questi mesi ha centrato un problema cronico del nostro Paese che può e deve essere risolto. La risposta nucleare di ultima generazione è una risposta strutturale alle esigenze energetiche dell'Italia che dipende troppo dai fornitori esteri. Il programma della Lega prevede l'utilizzo del nucleare per produrre energia che insieme alle energie rinnovabili comporterà sicuramente un risparmio delle bollette, più competitività per le nostre imprese e questo significa crescita per l'Italia.